L'avviso per la distanza di sicurezza informa il conducente sull'intervallo temporale tra il proprio veicolo e quello antistante, in modo da consentirgli di rispettare le distanze di sicurezza tra i due veicoli. Questa funzione non è disponibile quando il regolatore di velocità adattivo è in funzione. È possibile attivare il sistema dallo schermo multifunzione. Grazie a tutti.